Sul problema irrisolto dei danni provocati dalla fauna selvatica e in particolare dai cinghiali, registriamo una presa di posizione di CIA agricoltori italiani che accusa la regione Abruzzo di aver peggiorato la normativa sulle operazioni di sede controllo. Il Consiglio infatti non ha accolto la proposta CIA di adeguarla, quanto consentito da una sentenza della Corte Costituzionale che ha dovuto risolvere un problema di legittimità a proposito di un provvedimento approvato dalla regione toscana. Ne abbiamo parlato con Mauro Dizio, vicepresidente nazionale e presidente della Federazione regionale di CIA Abruzzo. Abbiamo chiesto di farlo entro il mese di marzo perché già a marzo iniziano i danni sulle colture foraggiere e la risposta è arrivata ai primi di maggio ed è stata completamente stravolta la nostra sollecitazione ed è stata ulteriormente peggiorata la legge regionale nel senso che la Polizia Provinciale anziché avere un supporto dai cacciatori formati che vogliono e possono dare un contributo al contenimento della fauna selvatica non può contare sull'aiuto di questi cacciatori perché la normativa è stata ulteriormente peggiorata. CIA non esclude un ricorso alla Corte dei Conti ma perché? Ma sì perché i risarcimento agli agricoltori sono pochissimi, assolutamente insufficienti e tardivi ma comunque sono risorse pubbliche messe in campo per dare ristoro insufficiente ma sono risorse pubbliche che chi è chiamato a vigilare sul controllo della fauna selvatica e quindi al contenimento dei danni ha in questa maniera reso vano e quindi qualcuno a nostro avviso deve renderne conto. Presidente state valutando anche altre possibili iniziative per sollecitare la regione? L'avevamo anticipata all'indomani dell'uscita di questa modifica peggiorativa della legge siamo convinti che vada fatta perché da una sollecitazione di febbraio la cui risposta è arrivata ai primi di maggio in maniera negativa oggi non possiamo non dare soddisfazione a quel mondo agricolo che sempre di più vive questa situazione di drammatico disagio. Grazie a tutti.